Siamo al Garden Manin, giardino d'Otto Manin di Milano. Prepariamo uno dei cocktail classici, che è il Dai Kiri, ma nella versione tra virgolette estiva, cioè frozen. Perché? Bisogna ricordarci che nei paesi tropicali normalmente i drink vengono fatti frozen. Noi in Italia, o comunque nei luoghi europei, li facciamo anche senza frozen, perché chiaramente le temperature sono diverse e automaticamente il drink sarebbe troppo freddo per le nostre abitudini. Vado a preparare il nostro drink, naturalmente verso gli ingredienti che accampano al frullatore, sempre con 2 cl di sour, che è limone e zucchero e 4 cl di rum. Aggiungerò il ghiaccio e poi vado al frullatore. Se nel caso in cui non avesse un frullatore potente come quelli che si usano nei bar, si può cercare di pestare o rompere il ghiaccio comunque con un canovaccio e poi inserirlo nel vostro frullatore di casa per evitare rotture o bruciature di motori varie. Andiamo a versare i nostri ingredienti. Mettiamo anche il ghiaccio per raffreddare la nostra coppetta, che è una doppia coppa da cocktail. Versiamo il ghiaccio nella nostra campana. Vado a togliere il ghiaccio dalla mia coppetta, che abbiamo precedentemente raffreddato. Versiamo il nostro cocktail nella coppetta. Al prossimo episodio Grazie. 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 Grazie.